Oggi si gioca a Fortnite, però ogni vittoria che farò andrò a giocare una copia di Fortnite sempre più brutta Partiamo dal solito Fortnite che conoscete già, però alla fine arriveremo ad una roba che non potete immaginare signori È assurdo Però prima di scoprire se ho vinto o no, vi presento Eneba Il miglior sito gaming dove comprare giochi, gift cards e DLC Tutto con sconto C'è pure il picone di Katuma, ragazzi, che ho anche già comprato per farvi capire Su Eneba potete trovare di tutto e meglio, il loro punteggio Trustpilot è meraviglioso Loro hanno pure un servizio di supporto 24 su 7, ragazzi, voglio in ogni singolo momento Non importa da dove giocate, mettete la vostra piattaforma e cercate quello che vi interessa Qui su Eneba avete più di 10.000 prodotti digitali Cercate pure cose di Fortnite, ragazzi, troverete di tutto Se siete interessati, mi raccomando, però, entrate dal mio link qui sotto Che così mi supportate pure Va bene? Grazie mille e buona visione Ok, 25 Crackato No, lo sapevo, lo sapevo, era palese Sempre quando ho fight arriva qualcun altro, signori Ok, boxato Ho sbagliato un colpo che non potevo sbagliare, crackato Morto, oddio, che kill Ho giocato benissimo Ok, fatto il primo dono Oddio, 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 cosa, cosa? Corriamoci, dai, non voglio morire Morto Uh, 10 di vita Cecchino E rocket E qui, ragazzi Eccoli Ma come? Ok, mi sembra scarso, mi sembra scarso Ok, crackato, ragazzi Mettiamo la distanza E facciamo l'ultimo colpo per prendere la kill, dai Ok, 100 di dano Preso 81 Oh, un'altra kill Ci siamo, ci siamo, eh Che rocket che li ho tirati, eh, signori Tivo un altro, già Oddio, io non ho tempo Io non ho pace qua, eh Mamma mia Non ho un secondo di pace qua in questo posto Coppia, rocket Ma questo qua è malato Trepa, no, ma che cazzo sto vedendo? Oddio Gli ho fatto fare del danno A se stesso Presa la kill di questo qua con 10.000 rocket, signori Ci siamo, ci siamo, ci siamo E cos'è sta roba? Sing, 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 sing Cosa sto a vedere? Ma posso brillare? Ma cos'è sta roba? Ma no, 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 no Toglimi sta roba Toglimi sta roba subito Siamo in 5 persone, ragazzi Che tensione, eh Qui la situazione è davvero complicata No, 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 no Vecchio, ma cosa state facendo? È 1v1, signori, 1v1 Provocchiamo dentro il safe, signori Mamma mia, con pochissima vita Abbiamo preso la vittoria Mamma mia, ragazzi È da due anni che sto cercando di fare questa vittoria Ce l'abbiamo fatta La prima parte è finita Fortnite è andato E partiamo con la prima copia di Fortnite Ragazzi, questo qua è stupendo Vi prego Se trovate questo assurdo È che non avete ancora visto l'ultimo, signori Ve lo devo dire Io non ve lo dico Per non spoilerare Spoilerare Come si dice? C'è la boogie oogie Sta ballando, sta ballando ragazzi Non c'ho colpi Oddio No, 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 no Oddio C'è un'altra persona con me, ragazzi 1v1 Dov'è? Eccolo là Lo facciamo ballare E facciamo sta kill No, no, no L'ho tirata male L'ho tirata male 70 Ok, è boxato Boxato, ragazzi È boxato Vamo Poca di vita Siamo Primo game È già vinto la partita Ragazzi, no Questo qua però è veramente fatto bene Vabbè, ora passiamo 1v1.0 L'immagino già lo conoscete, signori Questo è un classico Veramente Però dobbiamo vincere questa big box qua A me sembra interessante Eccolo qua 100 Oddio che colpo l'ho fatto ragazzi Questo qua sa giocarsi ora Sa giocare questo Vai edita, edita, edita 30, 30, 30 È da bianchissimo Un colpo Un colpo è morto Preso Editato No Mi hanno gravato Oddio Ragazzi Tutti quanti che tre hard Lo peggio di Fortnite Sta roba Ok Sono uscito davanti Io No L'ho ucciso Ma l'ho ucciso Perché sono morto Ma io l'ho ucciso No, no, no Mi posso andare dietro Che hai fatto un primo danno Qui alla cazzo 100 Oddio L'ho distrutto ragazzi L'ho distrutto Lo yazz È davanti a me Che non posso ammissare il colpo 100 Oddio Headshot 200 Gli ho fatto ragazzuoli Ok 30, 30, 30 Presa la kill Ora devo vincere Ora devo vincere Ok Mamma mia Gli ho fatto 200 Con l'edit Mamma mia Non ci posso credere Gli ho fatto il 200 Con quell'edit Maggiore Gli ho fatto Bene signori Prima di passare All'ultimo gioco È il più pazzo di tutti Passiamo qua A una evoluzione No Del Fortnite 2.0 Che è un Fortnite Creatto da un giocatore Da una persona come noi Ha creato il gioco Simile a Fortnite Questa qua è la versione Aggiornata del gioco Non è come Fortnite Però da qualche parte Anche Ragazzi Ma ve devo dire qualcosa io Cioè ragazzi Guardate la qualità grafica Questo qua è veramente Molto più bello Se fosse potessi picconare le robe Bello il lancerazzo Faccio esplodere qualcuno Signori Eccoli lì Eccoli lì È morto quello Mamma mia signori C'è tutto il cosco Prendiamo tutte le kill Oddio 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 Cavolo sono tutti qua Presi due kill Tre kill quattro Che l'ho fatto Cavolo Ok abbiamo l'ultimo Prendiamo Preso un'altra kill Cavolo No devo prendere questa Questa arma è troppo forte Signori Questa arma è troppo forte Ok Presa No No Pollone proprio Qua eh Non sbaglio un colpo Cazzo Uh 120 135 Mamma mia ragazzi Sori mei Sori mei Ve lo dico io O me lo dite voi Che ho vinto la partita Il tipo è morto di safe 1100 di esperienze comunque Oh più che su pornet Bene signori Siamo arrivati All'ultimo gioco Il bello di questo gioco È che letteralmente Tu premi due tastini A casa tua Se scrivi Vbuild now GG Lo trovi E tipo Qualsiasi gioco Cioè nel senso Lo trovi dappertutto Questo giochietto qua C'è un gioco di navigatore Non devi installare niente E il più pazzesco di tutto È che è il migliore Tra tutti questi No 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 Ora ve lo devo far vedere Sori Sori Guardate sta roba Cioè guardate sta roba Sori Vi sembra che sto Su fornite qua eh Oh sembra la mia Appa di 1v1 Di 1v1 no Di edit Ve lo dico eh Cioè è più fluido Che forno Ma è molto di più E poi L'edit course Poi vedrete la partita Ragazzi È pazzescamente più bella Che su fornite Ma molto di più Cioè guardate gli esercizi Che ci sono qua eh Oh 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 Nuovo metodo di allenamento ragazzi Vostra mamma non vi lascia giocare a Fortnite Ecco qua C'è roba migliore Per vincere con classe Io voglio minimo 5 kill Qua e distruggo tutti quanti Ok prendiamo già l'Igrond Signore Ok 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 Igrond preso C'è uno che viene da me Gli ho fatto il colpo Oddio Ho fatto il colpo 30 Gli ho lasciato Ci sono più da me Più da me Più da me Ci curiamo Attenzione Dovevo boxarmi Devo boxarmi Devo boxarmi Vieni da sopra Vieni da sopra Non ci credo Non ci credo Qui è dura eh Qui è dura Qui è dura Sono forti questi Io non posso più perdere Basta eh Basta Basta Cos'è sta roba Cos'è sta roba Lei cos'è Ma come Ma Ma cosa Dove Ma cosa fa Ma cosa fa Ma cosa fa Riprendiamo il nostro Igrond qua Siori Ok ripreso Molto bene Faccio il dono Ora faccio il dono Faccio il dono Il dono è craccatissimo Presa la kill Presa la kill Presa la kill Siori Sono vivo No 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 Ok ci siamo Ci siamo Lui non mi vede Non mi vede 21 21 21 È craccato Ok andiamo Andiamo verso Igrond Ok ha cercato di boxarmi Siori Ci siamo Ci siamo Igrond No non è nostro Non è nostro Non è nostro Igrond Ma ci sono due ancora Fatto uno Fatto uno Che kill Vamo Vamo Gigi Siori Dai Mi sia piaciuto il video Mi raccomando E neba Link in descrizione E ci vediamo Al prossimo video Ciao